Tutti come state? Spero tutto bene. Allora oggi facciamo un altro video e spesa e adesso vi mostro tutto quello che abbiamo preso. Allora qui ci sono tutte queste cose. In totale abbiamo speso 35 con 18 centesimi e vi faccio vedere magari anche. Allora dove sono? Aspettate un attimo. Ecco la data che sarebbe qui. Siamo oggi 14 di maggio. Se riesco oggi condivido questo video, se no lo farò domani. Ecco e iniziamo. Abbiamo preso questo. Sono della frutta seca. Guardate si chiama. È del Mr. Nut. Ecco sono i semi di girasole. E non salati. Queste sono ancora meglio. Ok. Poi. Ancora un'altra frutta seca. Le mandorle. Della Nuts for Nuts. Poi abbiamo preso della banana. Ecco la banana cup. Due trentotto. Noi di solito non le prendiamo tanto maturo così piano piano qui in casa se matura. adesso ho tratto di aprirlo. Adesso ho tratto di aprirlo ma non riesco. Comunque sono allora un chilo e 260 grammi. Questo così noi lo mandiamo piano piano. E come dicevo se matura è meglio che se matura in casa. Così non va male prima. Allora poi abbiamo preso anche i cetrioli. Ecco cetrioli 1,79. Anche questi sono molto salitori. poi abbiamo preso la melinda. Poi abbiamo preso la melinda. Poi abbiamo una melinda. Abbiamo preso la melinda, questi sono due chili, ecco, qui abbiamo preso anche dell'ananas, qui come avete detto noi mangiamo spesso la frutta, ecco l'ananas, infatti anche ieri mi sono mangiata una mesa ananas, era molto buona, ci sono altre cose che adesso ci vedo, faccio un cellulare, allora abbiamo preso questi snack, la pequeña, questo è un scritto in spagnolo che vuol dire piccola, barretta al sessamo, abbiamo preso due, poi abbiamo preso anche dell'acqua, la santana e l'altra è la nestle vera. Ok è tutto tutto quanto, questa è la mia spesa per questi giorni e niente vi ringrazio perché guardate questo mio video e alla prossima vi saluto e se è la prima volta magari che vedi questo mio canale, iscrivetevi e attiva il campanello così saprete quando condivido un nuovo video. Va bene, ok alla prossima, ciao ciao. 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 Grazie.